Grazie a tutti 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 Senti ma una canzoncina tipo Cuore Matto per esempio Per voi che avete 14 anni, 15 anni Vi suona, vi va di farla? Certo Un accennino, una cosettina? Subito Dai, dai Vincenzo, dai Vai E... E... Non riesco a farli mai capire Che tu vuoi bene a un altro e non a me Cuore matto da regale Che creda ancora che tu pensi a me Non hai convinto E sei andata via Che mi hai lasciato E non ritornerai Dimmi la verità La verità E forse capirà Capirà Perché la verità Perché la verità Tu non l'hai detta mai Cuore matto che ti vuole bene Cuore matto Matto da regale Cuore matto Che ti vuole bene Cuore matto Matto da regale A regale Ho 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 Di cazzosa Grazie 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 Sono felicissimo Mi avete fatto un bellissimo regalo Allora, però torniamo a Vincenzino Vincenzino tu prima di parlare di rock and roll Che ti piace moltissimo Vogliamo fare un rock and roll questa sera? Te la senti? Batteria Tosta, eh? Ok Accordo di La Maggiore Well Ready say Go man go I gotta carry I love a soul I'm ready Ready, ready, ready I'm ready Ready, ready, I'm ready Ready, ready, I'm ready I fantastici gazzosani. Eh, grazie. Fantastico. Pensate che questi giovani ragazzi in quattro fanno 54 anni, ma Maurizio Vandelli è molto più forte di voi, perché lui ne ha 57 da solo. Dov'è? Ah, è qua. Scusa, Nato. Non l'avevo visto. Guarda che se facevano 60 vincevi tu, eh. E come impari tu? Lo sapete. Il sogno sarcastico Vandelli, ok. Gazzosa, tutti con me. Ciao. Ciao. Grazie. 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 Grazie.